A Capar Pio Libri 2012 sono con un crezzi all'ante della rovere. Com'è la letteratura in digitale? La conosce? Ancora ci devo arrivare, diciamo che sono partita dal giornale, dal quotidiano. Ritengo utile se non devo prendere appunti, perché tutto il sistema ancora di appunti dell'ebook sui ridere è un po' scomodo. Quali sono i vantaggi della letteratura in digitale per un non-verlotto? La possibilità di raggiungere lettori che altrimenti non andrebbero in libreria, non cercherebbero un libro, penso tutto ai lettori più giovani. Io sono un po' più conservatore, mi piace ancora proprio toccare la carta, sentirne i rumori, i profumi, quindi del resto faccio un settimanale, quindi se lo facessi solo su digitale non sarei qui. Mentre invece la consiglio per chi deve avvicinarsi, io conosco un sacco di persone che hanno cominciato a leggere sull'ebook ma alternano anche poi i libri veri e propri perché hanno bisogno poi di una concentrazione, di un rapporto più diretto.